buongiorno a tutti e ben ritrovati da donluca95 sono finalmente riuscito a caricare su utorrent la mia versione del gioco quindi se volete c'è in descrizione un link dove potrete praticamente scaricare il file torrent e iniziare il download di questo gioco il file dovrete scaricare 27 giga di file winrar da utorrent dopo dovrete estrarre il file e il file complessivo il gioco complessivo pesa 60 giga quindi tirate quello a mente e potrete finalmente utilizzare la mia stessa versione del gioco quindi effettuare tutte le campagne dinamiche che volete avete il giappone italia come avevo mostrato in un altro video ci sono moltissime nazioni per quanto riguarda le campagne dinamiche molto interessante molto belle e dopo avete a disposizione tantissimi aeroplani con cui potete volare potete fare moltissime battaglie personalizzate se volete rilassarvi potete benissimo volare un bombardiere strategico quadrimotore per esempio fare un po di bombardamento se siete un po più interessati a sparare ma allo stesso tempo volare il bombardiere potete dare il controllo dell'aeroplano al pilota automatico e utilizzare uno dei tanti gunner e posizioni dei mitraglieri per effettuare diciamo una partita dalla missione come uno dei gunner uno dei mitraglieri del bombardiere ci sono anche moltissimi attacco al suolo bombardieri leggeri casse bombardieri da picchiata e se volete ovviamente ci sono anche caccia e quindi potete fare moltissimi dogfight fare del dei duelli andare a testare un po le macchine a vedere un po quale l'aereo più interessante ovviamente potete gustarvi anche l'ottima grafica migliorata e che ho installato nella mia versione del gioco allora prima ho contato e nella mia versione del gioco ci sono più di 685 aeroplani avete a vostra disposizione 160 aeroplani diversi tedeschi 111 inglesi 110 sovietici 95 aerei americani 77 aerei giapponesi 64 aerei italiani 13 aerei olandesi 10 aerei polacchi 33 aerei francesi 3 aerei bulgari e 4 aerei ciecoslovacchi a sì ci sono anche 5 aerei rumeni qualche aereo spagnolo e qualche aereo svizzero si può giocare con mouse e tastiera ma ve lo sconsiglio perché è veramente veramente difficile per poter utilizzare al meglio questo simulatore avete necessità secondo me è a mio parere del track ier che vi catturerà i movimenti della testa e del fly joystick della fly stick praticamente no il joystick fly stick con cui volare la cloche di volo in sostanza appena avrete estratto la cartella di gioco andate ad aprire il file gsgme dove potrete abilitare le stesse mod che ho abilitato io quindi cercate di portare nella parte destra le mod che vedete adesso attive nello schermo perfetto dopo aver abilitato le mod siete pronti a far partire il gioco per far partire il gioco dovete cliccare sul file il2fb quello con la stella rossa e siete a posto il gioco si avvierà tranquillamente per convenienza consiglio di cliccare tasto destro su il2fb e andate a selezionare crea collegamento prendete il collegamento e per semplicità lo spostate nel desktop così ogni volta che volete lanciare il gioco utilizzate il collegamento nel desktop allora un'altra informazione che vi volevo dare per quanto riguarda la campagna dinamica che sicuramente vi interesserà è che quando andate a selezionare una campagna per esempio qui selezioniamo regge aeronautica carriera pilota italiano caccia italiano ok quindi questa è la carriera per quanto riguarda i caccia se noi iniziamo la campagna potete vedere che qui c'è l'aeroplano di default con cui voleremo quella determinata campagna per esempio selezioniamo questa campagna in russia con il machi 202 nel 42 e generiamo la campagna noi possiamo benissimo volare e effettuare la campagna con il machi 202 volendo ma se vogliamo possiamo addirittura andare a cambiare l'aeroplano che noi voleremo in quella determinata missione per esempio vogliamo volete volare il romeo 57 bis attacco caccia pesante bimotore andiamo a cambiare alla nostra squadriglia il caccia all'aeroplano e adesso la nostra squadriglia invece di essere munita di machi 202 sulla munita di romeo 57 caccia pesante bimotori vogliamo abbiamo dei compagni tedeschi possiamo modificare anche l'aeroplano tedeschi invece di avere il 109 li possiamo mettere il 110 adesso limitiamo il 110 ai nostri camerati tedeschi e qui per esempio agli aeroplani sovietici possiamo addirittura invece degli 16 possiamo cambiare anche l'aeroplano dell'avversario quindi ci sono già gli aeroplani di default qui invece degli 16 mettiamo il lag 3 quindi ci sono già gli aeroplani di default ma noi possiamo andare a personalizzare ancora di più nei minimi dettagli la campagna dinamica adesso facciamo fly per esempio e invece di volare il machi 202 voleremo il romeo 57 invece di affrontare gli 16 policarpov affronteremo affronteremo il lag 3 monomotore monoplano quindi questo dà un po di flessibilità e infatti come potete vedere gli alleati dei camerati tedeschi non hanno il 109 ma hanno il 110 noi invece di avere il machi 202 abbiamo il romeo 57 e quindi potete veramente andare a personalizzare nei minimi dettagli la campagna dinamica che è una cosa molto molto bella molto piacevole perché se ogni tanto volete cambiare aeroplano non dovete sempre volare tutte le stesse missioni con lo stesso aereo e potete essere un po più avere un po più mano libera diciamo se volete dare il controllo del vostro velivolo al pilota automatico per testare eventuali aeroplani contro altri aeroplani come in questo scontro 4 bf 109 contro 4 boomerang australiani dovete semplicemente premere il tasto k una volta che avrete premuto il tasto k l'aeroplano inizierà a muoversi in maniera indipendente sarà controllato dal pilota automatico e voi potrete gustarvi lo scontro andare a vedere un po le scene eccetera eccetera allora sono veramente contento di poter condividere con voi questa versione di L2 1946 una versione del gioco che considerano una libreria personale una biblioteca della seconda guerra mondiale una biblioteca dell'aviazione perché abbiamo più di 685 aeroplani disponibili che possiamo volare effettuare campagne gustarceli e goderceli reparto sonoro migliorato reparto grafico migliorato abbiamo un sacco di campagne dinamiche di quasi tutte le nazioni della seconda guerra mondiale iscrivetevi iscrivetevi al canale perché io veramente ci ho messo un sacco di anni un sacco di tempo per creare questa versione del gioco se la scaricate e ve la gustate e vi diverterete come minimo potete per favore iscrivervi al mio canale e sarebbe tanto perché io ci ho veramente dedicato un sacco di tempo un sacco di energia per completare questa versione del gioco sono contento comunque di poterla condividere con voi magari riusciamo anche trovarci online a volare assieme visto che abbiamo tutti la stessa versione è una cosa molto fattibile niente ragazzi scaricatelo fatemi sapere se il gioco funziona iscrivetevi al canale abbiate tutti quanti una bellissima e buonissima giornata e divertitevi in alto nel cielo da buttare giù qualche aeroplano ciao a presto alla prossima